Ciao, in questo video parlo delle carafe filtranti, quelle simpatiche brocche colorate dalle mille forme sinuose e accattivanti che si propongono di purificare l'acqua. Ogni società famosa si è fatta la sua carafe filtrante perché ha affiutato il business dei filtri di ricambio, ma non ha fatto i conti con l'intelligenza di coloro che pensano che i filtri durino mille anni, creando così l'obbligo di ritiro dal mercato di tutte le prime serie di carafe per sostituirle con quelle a cui hanno inserito una specie di contavitri per obbligare il cliente finale a sostituire i filtri, ma soprattutto per una questione legale, per essere così certi che legalmente la responsabilità in caso di un eventuale mal di pancia sia sempre dell'utilizzatore finale. Il cliente che si crede intelligente continua a non cambiare i filtri, ma la società ora è legalmente deresponsabilizzata. Ma quelli che comprano per 20 euro giù di lì una caraffa, non pensano a quanto gli costa poi mantenerla? I filtri di ricambio per la caraffa, a seconda della marca, variano da 5 a 10 euro l'uno e vanno sostituiti ogni 15 massimo 30 giorni, a seconda anche dei litri filtrati, il che porta la spesa minimo a 120 euro l'anno, senza inoltre avere la certezza di qualità e sicurezza nell'acqua che viene fornita da queste caraffe. Inoltre la caraffa ogni tot andrebbe sostituita perché la plastica si deteriora, quindi non ritengo la caraffa un buon investimento anche se l'idea di base mi piace molto, ma per ora gli svantaggi superano di gran lunga i vantaggi. I filtri sono semplicemente composti di uno strato filtrante per le particelle più grossolane, uno strato di carbone attivo per eliminare il cloro e alcuni cloroderivati, ma lasciando l'acqua filtrata attaccabile dai batteri ed è questo il problema più grande. Poi c'è uno strato di resine anioniche e cationiche per togliere il calcio e il magnesio, due sali importantissimi per il nostro organismo, ma visto che sono la causa del calcare e visto che poi la caraffa si sporcherebbe e sarebbe brutta alla vista, preferiscono toglierlo. Questo perché in questa società si pensa che un oggetto debba essere bello prima che funzionale, quindi è giusto mangiare escrementi, basti che assomigliano a cioccolatini e per tutto questo ringraziate quelli che si credono creativi, i designer, quelli che vi dicono come vestirvi, che vi spiegano come si deve apparire per essere accettati, ma soprattutto ringraziate voi stessi che gli state credendo. Sicuramente la bellezza ha la sua importanza, ma non sarà mai più importante della funzionalità e dello scopo dell'oggetto stesso. Che differenza c'è tra una caraffa da 20 euro con una di design da 60? Un bel niente, a meno che per te la confezione non sia più importante del prodotto. Ciò che filtra l'acqua non è il contenitore, ma il filtro che sta all'interno, composto dai materiali filtranti. Mi spiace infrangere le illusioni, ma sono tutti uguali, fanno tutti la stessa cosa e anche se la tabella comparativa di queste caraffe sembra che tolgano tutto, anche l'uranio, il piombolo arsenico e molti altri, il fatto che l'acqua prodotta sia facilmente attaccabile dai batteri mantengo su questo prodotto un voto negativo. Qualcuno starà pensando, e già, ma se le vendono vuol dire che qualcosa fanno. Certo, fanno quello che ho detto prima, ma il risultato finale, secondo me, è insufficiente. Qualche azienda che usa il cervello ha costruito dei basamenti universali per queste caraffe. Quando si appoggia la caraffa su questo basamento, e questo è collegato alla corrente elettrica, si accende una lampada a raggi ultravioletti che irraggia l'acqua, mantenendola sterile. E questa è una grande cosa, perché hanno eliminato il grosso problema di questi prodotti. Ovvio, il rovescio della medaglia è il costo di questo basamento, e la sostituzione regolare della caraffa, perché i raggi UV deteriorano velocemente la plastica di cui essa è costruita. Non sono contrario all'uso delle caraffe, ma leggi le istruzioni e rispetta i cambi filtri. E, se anche costoso, e se pensi che la caraffa sia un buono strumento per la tua acqua, allora compra anche il basamento a raggi UV, e fai sì che l'acqua che produci sia veramente sicura. Bene, anche per questo video è tutto. Se hai domande, o se hai deciso di acquistare un purificatore d'acqua, scrivimi o telefonami. Ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato, e ti aspetto al prossimo video. Ciao!